La Corte Costituzionale ha censurato la legge 14 del 2021 con cui la Regione Abruzzo aveva ridotto l'estensione del Parco Regionale Sirente Velino per diverse migliaia di ettari. La norma era stata fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste che avevano chiesto al Governo di portarla al giudizio della Corte. Secondo i giudici la norma contestata viola la legge quadrostatale sulle aree protette, non avendo reso adeguatamente partecipi gli enti locali nella definizione del nuovo perimetro. Non risulta, scrivono i giudici delle leggi, che siano state effettuate le prescritte conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, né che tale documento di indirizzo sia stato predisposto, né ancora che siano state operate l'analisi territoriale, l'individuazione degli obiettivi da perseguire e la valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio, sulla cui base espressamente si realizza la partecipazione, secondo quello che la legge quadrostatale sulle aree protette qualifica espressamente come principio fondamentale per la disciplina delle aree naturali protette regionali. Se da un lato la Corte riconosce l'esistenza di delibere dei consigli comunali e dei verbali delle riunioni della comunità del parco, dall'altro rileva che non risulta in alcun modo che siano state rispettate le specifiche condizioni procedimentali a garanzia della prescritta qualificata partecipazione delle autonomie alla scelta di riperimetrazione dell'area. Si tratta di condizioni dirette all'evidenza, a far sì che la partecipazione degli antilocali interessati all'istruttoria sia effettivamente idonea a incidere sulla scelta da assumere all'esito del procedimento di istituzione del parco e di sua modifica.